Da guardiano dei pali della porta di Ravenna, un gol subito nelle ultime sette partite, nel momento clui della stagione Ravenna ha chiuso a doppia mandata la propria porta. A parte due occasioni nel primo tempo, il Ravigo non ti ha mai impensierito. Sì, chiuso a doppia mandata, io sinceramente questo dato qui un gol subito nelle ultime sette non lo sapevo, comunque sono contento, soddisfatto, soprattutto del lavoro che stiamo facendo comunque dall'inizio dell'anno, perché dall'inizio della stagione è stata data un'impronta soprattutto a livello difensivo, di compattezza, solidità e diciamo che le prestazioni, questo tipo di dati conferma quello che di buono abbiamo fatto, però come ho detto prima, calma perché mancano due partite, dobbiamo mantenere la concentrazione e poi vedremo. Anche adesso ci aspettano due partite con due avversari che lottano ancora per evitare i play-out o comunque per guadagnare la migliore posizione dei play-out, quindi insomma non concederanno nulla chiaramente. Assolutamente, non dobbiamo fare quel tipo di errore di approcciare male la partita, di essere superficiali, di sottovalutare l'avversario. Sono avversari temibili, comunque possiamo vedere anche all'andato come sono state le partite, non hanno mai mollato e quindi però noi adesso dobbiamo alzare il livello di concentrazione, di qualità perché il nostro obiettivo è troppo importante, quindi non possiamo sbagliare.